Sparatori a Napoli, ucciso quindicenne. Nella notte l'omicidio nei pressi di Corso Umberto. La vittima era incensurata, feriti altri due ragazzini di 14 e 17 anni. Si indaga sul movente, lo sgomento di Manfredi, bambini con le pistole, fenomeno che farà brividire. Cocaina dal Sud America, 14 arresti a Salerno, smantellata l'organizzazione che gestiva il traffico di stupefacenti. Sequestrati dai carabinieri 257 chili di droga, l'organizzazione attiva tra Campania, Basilicata e Puglia, con rifornimenti anche in Spagna. Il plauso del sindaco. Avellino, caos carcere, ora servono rinforzi. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sul grave episodio di violenza avvenuto l'altra notte nel penitenziario di Bellizzi Irpino. Il sindacato chiede subito rinforzi, in organico. Stamane visita del deputato di Forza Italia, Rubano. Regionali, De Luca accelera, ok in aula al terzo mandato. Il governatore riunisce i consiglieri di maggioranza. Il 5 novembre in aula, il voto sulla norma per consentire la ricandidatura sull'esempio dei presidenti del Nord. Centro-sinistra in fibrillazione, dure critiche dal centro-destra. Innovazione e digitale, le aree interne al top. Sannio e Irpinia brillano per innovazione e digitalizzazione, ma sulla demografia la situazione è allarmante. Questi i dati che emergono dal confronto nella prima giornata dell'economia organizzata dalla Camera di Commercio. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione di 8 Channel. In apertura la sparatoria a Napoli con l'omicidio di un 15enne incensurato. Feriti altri due minori e giallo sul movente. Indaga la polizia, la DDA e la procura dei minori. Paola Iandolo. Lui si chiamava Emanuele Tufano. Aveva 15 anni, crivellato di colpi proprio come un boss. Invece il suo casellale giudiziale era completamente pulito. Il teatro della sparatoria è corso Umberto, centralissima arteria che separa i quartieri Mercato e Forcella. La sparatoria è avvenuta attorno alle 2 di questa notte. Ancora poco chiara la dinamica di quello che è accaduto. Non è chiaro se l'omicidio si è maturato o meno in un contesto malavitoso. E su questo si stanno concentrando le indagini della polizia. La vittima incensurata era residente al quartiere Sanità. Sul fronte delle indagini, condotte in particolare dalla squadra mobile, coordinate dalla procura di Napoli, sia antimafia che ordinaria, ma della vicenda è stata costantemente informata anche la procura dei minori. Sembrerebbe che ci siano altri due giovani coinvolti, su cui si stanno cercando riscontri circa il loro eventuale coinvolgimento. Nel fatto, uno ha 16 anni, arrivato al pronto soccorso del CTO con una ferita d'arma da fuoco al braccio, il ragazzino è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza che ha consentito l'estrazione dell'ogiva. Al momento le sue condizioni di salute sono buone. L'altro, invece, secondo quanto si apprende anche gli minorenne, è stato accoltellato alla coscia e al gluteo. I sanitari del CTO hanno riscontrato la lesione di un'arteria ed è stato quindi sottoposto a tutti gli accertamenti. E sulla tragica sparatoria in pieno centro, tante sono le reazioni della politica, un evento che farà brividire il commento del sindaco Manfredi. Una deriva criminale che diventa via via sempre più inarrestabile. Ha invece tuonato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. I dettagli con Alessandro Fallarino. Non è possibile che i protagonisti siano ragazzi di 15 anni. Questa è la prima dichiarazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sulla drammatica quanto preoccupante sparatoria avvenuto al corso Umberto I a Napoli, dove ha perso la vita un quindicenne. Sono queste bande di ragazzini che veramente rappresentano chiaramente un fenomeno nuovo che debbono essere affrontati sia dal punto di vista repressivo ma anche dal punto di vista poi del controllo sociale, perché veramente si tratta di bambini con la pistola, una cosa veramente che colpisce tantissimo. Tante sono state le reazioni sul drammatico omicidio che ha scosso non solo la città ma l'intera regione. Non possiamo più restare inermi e tempo di un cambio di passo e lo dico con tutta la forza e l'urgenza che richiede questo momento, il commento dell'arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia. Quel che è certo è che Napoli, la periferia e l'Interland stanno diventando teatro di un fenomeno sempre più inquietante, invece commentato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. È l'ennesimo giovanissimo che perde la vita per mano della violenza criminale. Ha tonato anche Mariano Di Palma, referente regionale Campania di Libera. Non possiamo più assistere passivamente a un crescendo di violenza e insicurezza. I carabinieri del Comando Provinciale di Caserta hanno effettuato perquisizioni presso la sede della provincia di Caserta, in particolare negli uffici del Presidente Giorgio Maiocca, che è indagato, e dei settori edilizia e viabilità nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capoavetere su un sistema di appalti in cambio di tangenti. L'inchiesta ha già coinvolto il consigliere regionale Giovanni Zannini. I carabinieri hanno perquisito l'ufficio di Maiocca alla provincia e la sua abitazione a Pignataro Maggiore, comune in cui risiede ed è sindaco. Appalti pilotati sul PNRR e la gestione dei migranti per 5 milioni di euro, 13 indagati tra le province di Frosinone e Napoli. Ai domiciliari, tra gli altri, il sindaco di Ceccano, insieme ai dipendenti del Comune e professionisti. Giovanni Battista Lanzilli. Un vortice di tangenti per aggiudicarsi appalti per oltre 5 milioni di euro relativi ai cantieri del Piano di Ripresa e Resilienza e per l'accoglienza dei migranti. Dieci persone arrestate tra le province di Frosinone e Napoli, tra queste il sindaco di Ceccano, oltre ad imprenditori, professionisti e dipendenti del municipio laziale. Per altre tre è invece scattata l'interdizione all'esercizio della professione e a contrarre con la pubblica amministrazione. Il giro di denaro, secondo la ricostruzione di squadra mobile e direzione anticrimine della polizia, avveniva attraverso un sistema di fatturazioni e bonifici verso aziende fittizie. L'attività di intercettazione e le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori del Servizio Centrale Operativo di Rome e dalla squadra mobile alla questura di Frosinone hanno messo in luce il sistema corruttivo e hanno consentito di individuare professionisti e imprenditori che hanno potuto pilotare gli appalti grazie alla complicità di amministratori e dipendenti del comune. I fondi venivano riciclati e monetizzati attraverso un sistema ribattizzato tangente fattura, ovvero l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'inchiesta è partita dal traffico di rifiuti tra la Ciociaria e la Campania che nel maggio scorso aveva portato a nove arresti. Le mazzette, secondo l'ipotesi accusatoria, venivano intascate grazie a false fatturazioni fatte da ditte campane che consentivano di creare enormi provviste di denaro. Migliaia di euro a settimana che dal napoletano finivano nel Frusinate che la polizia ha seguito meticolosamente ricostruendo il giro di tangenti. Cocaina dal Sud America al porto di Salerno. 14 arresti per il traffico di stupefacenti sequestrati dai carabinieri 257 kg di droga. Nel mirino un'organizzazione attiva tra Campania, Basilicata e Puglia con approvvigionamenti anche in Spagna. Sara Botte. Maxi Operazione Antidroga dei Carabinieri al porto di Salerno smantellata un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti capillare nel capoluogo e provincia, riuscita a entrare anche nei mercati illeciti di altre regioni tra le quali Basilicata e Puglia. 14 gli arresti eseguiti tra Fratte, Matierno e Ponte Cagnano, 11 indagati in carcere e 3 ai domiciliari sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, sequestrati circa 257 kg di cocaina, 7 kg di hashish e circa 7,5 kg di marijuana, oltre a una pistola modificata, capo del gruppo criminale Carmine e Tiziano Memoli, che con l'aiuto delle loro famiglie, secondo i militari, avevano acquisito nel tempo canali di approvvigionamento anche dall'estero, in particolare dalla Spagna, trattando con protagonisti del traffico internazionale di cocaina, collaborando nel ritiro dei carichi arrivati allo scalo dal Sud America, il blitz commentato così dal sindaco di Salerno. Telefonerò al questore al perfetto per complimentarmi, perché è un'operazione che sgomina una banda che aveva delle ramificazioni internazionali, quindi ottimamente avanti così. Soddisfazione per l'operazione anche dall'assessore alla sicurezza. Significa che siamo in grado di contrastare il traffico, non siamo più nel fenomeno dello spaccio, ma evidentemente siamo nei traffici internazionali. E Salerno è un porto che non deve essere sicuro, tra virgolette, per questo genere di operazioni. Lo Stato torni a fare lo Stato, in carcere non possono comandare i detenuti, così l'onorevole di Forza Italia Francesco Maria Rubano, a margine della visita ispettiva al carcere di Bellizio Irpino, dopo l'accoltellamento subito da un detenuto, che ora lotta tra la vita e la morte, aperta un'inchiesta dalla Procura. Angelo Giuliani. Aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Avellino sulle violenze avvenute l'altra notte nel carcere di Bellizio Irpino, quando un giovane detenuto di 25 anni del napoletano è stato accoltellato, ora lotta tra la vita e la morte nella rianimazione del Moscati. Le sue condizioni sono gravissime. La Procura guidata da Domenico ai Roma indaga sulla spedizione punitiva. Alla vittima è stato reciso un lobo e rotto un braccio. L'ipotesi è quella di una guerra tra bande rivali all'interno del carcere. E intanto stamattina nel penitenziario, visita ispettiva del parlamentare di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. Sentirò il direttore, il personale, voglio capire che cosa succede. Noi siamo lo Stato e non dobbiamo consentire a detenuti, a delinquenti di creare difficoltà all'interno di un istituto di pena. Addirittura si dice che i detenuti siano i coordinatori di attività particolari all'interno del carcere. Io non lo so, lo devo verificare. Se questo è vero e grave, che i detenuti gestiscono praticamente l'istituto di pena? Non lo so, questi sono gli interrogativi che da letture di stampa emergono. Ma non solo a me, anche rispetto ad altri. Quindi oggi sono qui a fare il mio dovere. Noi siamo lo Stato, non ci piegheremo mai. Il tema è un altro e va oltre la cronica carenza di personale, problema che comunque resta in tutta la sua gravità. Sul tavolo del governo e del Parlamento c'è anche questa problematica che stiamo affrontando. Ma non possiamo consentire che i detenuti facciano una sfida allo Stato. Quindi è un altro tema. Regione e terzo mandato De Luca convoca la maggioranza. Il 5 novembre in aula anche la legge elettorale. I consiglieri DEM chiedono altro tempo, ma il governatore tira dritto. Sfida aperta al PD nazionale. Rossella Strianese. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha convocato i consiglieri della maggioranza e ha annunciato che il 5 novembre il Consiglio regionale sarà chiamato a recepire la legge nazionale sul vincolo del doppio mandato. Si vuole procedere sul modello Zaia, insomma, e per non rischiare inciampi giuridici si è rivolto a due costituzionalisti di fama, Paolo Maddalena e Marco Galdi. Davanti ai dubbi del PD esternati dal capogruppo Mario Casillo, che chiede qualche giorno in più per fare un passaggio con il Partito Nazionale, De Luca tira dritto. L'obiettivo è capire su chi può contare, a prescindere dai partiti, per la corsa al terzo mandato. Dunque il 5 novembre in aula non ci sarà altro che una norma che recepirà la legge nazionale sul doppio mandato, senza retroattività, quindi né più né meno ciò che è stato fatto in Veneto e anche in Piemonti. Credo sia giusto archiviare una pratica politica che credo sia non solo di poco interesse dei cittadini, ma che riguarda un'avvertenza interna, a mio giudizio, del PD che francamente riguarda poco, che sono curioso, lo dico senza mezzi termini, vorrei comprendere cosa accadrà il 5 novembre, comprendere appunto cosa faranno i consiglieri regionali del PD. Per la stessa data potrebbe arrivare in aula anche la proposta di modifica alla legge elettorale regionale. Per i consiglieri DEM le due cose viaggiano insieme, per i deluchiani invece sono nettamente separate. Nelle prossime ore proprio il capogruppo Casillo potrebbe depositare il testo della nuova legge elettorale con una nuova soia di sbarramento tra il 2,5 e il 3%, ma per decidere c'è ancora tempo. Di sicuro il quadro sarà più chiaro dopo le regionali di Umbria e Liguria. La cronaca è ancora giallo sul delitto di Castellabate, si cerca senza sosta l'assassino della 53enne tedesca Silva Novak, trovata morta semicarbonizzata nella pineta di Oiastro Marina, a 150 metri dalla sua abitazione. Proprio nella villetta che la donna condivideva con il compagno si sono recati in queste ore i RIS di Roma, rilevi sia in giardino che all'interno. I militari hanno utilizzato anche il luminol alla ricerca di eventuali tracce di sangue. Si attendono i risultati del laboratorio, dati che verranno incrociati con quelli provenienti dall'esame autoptico. Al baglio della procura di ballo della Lucania anche il contenuto del cellulare della vittima. La salma rimane sotto sequestro. Sannio e Irpinia brillano per innovazione e digitalizzazione, ma la demografia è ormai allarmante. Sono i dati che emergono dalla prima giornata dell'economia organizzata dalla Camera di Commercio Irpinia-Sannio. Cristiano Vella. Prima giornata dell'economia per la Camera di Commercio Irpinia-Sannio con l'appuntamento a Benevento che ha visto premiare anche i partecipanti ai corsi organizzati dall'ente camerale. Al centro la presentazione del rapporto sull'economia delle due province, con dati in chiaroscuro, e un grande allarme relativo alla demografia. Tra i segnali positivi certamente evidenziamo una presenza di PMI innovative nel Sannio maggiore della media nazionale e una crescita del commercio estero sempre nella provincia di Benevento del 11%. Non possiamo trascurare alcune criticità strutturali a partire dalla demografia, quindi dalla popolazione. Abbiamo provato anche a fare delle proiezioni a lungo termine, quindi arrivando anche al 2042, e appunto ricaviamo degli indici di dipendenza strutturali della popolazione anziana rispetto a quella attiva che preoccupano. Al centro le attività dell'ente camerale come ha spiegato il commissario Girolamo Petrone. È opportuno riprendere queste iniziative che a livello nazionale qualche anno fa erano ben diffuse, cioè quelle che ogni camera di commercio organizzasse la giornata dell'economia, anche per non soltanto coinvolgere gli attori sul territorio, gli economisti, ma anche per rendere tutti un po' tutti di come sta andando in effetti l'economia in questi territori. Ad Avellino si è dimessa la consigliera Coppola, si profila la crisi nella maggioranza, ma l'assessore Volino nel corso di punto di vista rassicura le sue dimissioni non condizioneranno il lavoro della Giunta. Ormai si vociferava da tempo ed ora le sue dimissioni sono divenute irrevocabili. La consigliera comunale Antonella Coppola della lista Siamo Avellino è ufficialmente fuori dall'esecutivo. Il suo voto in commissione bilancio aveva scatenato le polemiche che l'accusavano di aver votato facendo leggere a presidente Nicola Giordano e quindi con le sue dimissioni dal Consiglio il caso politico è tutt'altro che chiuso, anzi si profila una crisi di maggioranza, anche perché dal giorno della revoca dei domiciliari dell'ex sindaco i 14 consiglieri dei gruppi storici di maggioranza hanno ritrovato la parola aprendo di fatto la crisi. Tensioni però smentite dall'assessore al patrimonio Edoardo Volino che sottolinea La città ha bisogno di essere amministrata è reduce da un periodo di commissariamento da una campagna elettorale sicuramente articolata e complessa la macchina amministrativa deve ripartire e sta ripartendo e credo anche con risultati sino ad oggi apprezzabili. Non siamo condizionati da queste fibrillazioni se vogliamo utilizzare questo termine lavoriamo con assoluta serenità sappiamo benissimo che il nostro compito è di rimettere in piedi una macchina amministrativa che ripeto era stata toccata da queste vicende di commissariamento e di campagna elettorale per cui queste vicende che concernono i gruppi di maggioranza il consiglio comunale i singoli consiglieri sono vicende che non ci condizionano per nulla. Al Museo di Capodimonte tornano 18 capolavori che avevano lasciato Napoli per i prestiti ad altre strutture culturali le opere di Caravaggio Parmigianino e Lotto tornano nella sala espositiva Partenopea. Dalla flagellazione di Caravaggio a Giuditta De Capita Oloferne ma anche altre opere di Lorenzo Lotto Bernardo Cavallino e tanti altri sono tornate in mostra al Museo di Capodimonte 18 capolavori che avevano lasciato la struttura partenopea per una serie di prestiti tra Louvre e Piemonte è stato il direttore Heike Schmidt a presenziare all'apertura della mostra. Invito a tutti i napoletani di tornare e celebrare questo ritorno di questi 18 capolavori che sono in questa sala ma anche di tutti altri che sono integrati. La guida del Museo Partenopeo si è poi rivolto direttamente ai napoletani non ci sono scuse per venire a visitare una delle mostre più importanti nel panorama culturale nazionale. Ho già parlato anche con il sindaco sulla riattivazione delle navette specifiche comunque già con il trasporto pubblico esistente è assolutamente possibile arrivare a Capodimonte e lo confermano appunto le persone che vengono al Real Bosco ogni mattina per correre perché iniziano a correre qui al Real Bosco non corrono da Posillipo fino a Capodimonte e continuano qui. Apriamo la pagina sportiva con la Serie A e con il Napoli Neres e Simeone titolari con il Lecce Cristiano Vella Non che sia necessario visto che quest'anno il calendario del Napoli non è di quelli fitti da affiatone e valigia costantemente in mano ma è probabile che per sabato a Lecce Antonio Conte si affidi in un ampio turnover certo martedì 29 c'è il Milan e prenderà il via il Tour de Force che vedrà gli azzurri affrontare in poco più di una settimana i rossoneri l'Atalanta e poi l'Inter ma più che far tirare il fiato ai suoi come noto non impegnati in gare europee ci sono le esigenze di dare minutaggio a chi gioca meno e di evidenziare che i titolarissimi non godono di crediti illimitati perciò è impreventivo di vedere dal primo minuto Neres visto che il brasiliano è stato devastante praticamente ogni volta che è entrato in campo e anche per far suonare se non la sveglia almeno un campanellino per Kvara non brillantissimo nelle ultime uscite idem per Lukaku ancora appesantito in attesa di ritrovare la forma migliore con il ciolito che potrebbe prendere il suo posto dall'inizio più difficile l'impiego dal primo minuto di Spinazzola visto che da quelle parti agisce banda e dunque meglio Oliveira più bravo in copertura probabile poi che ritrovi il suo posto in porta Alex Meret dopo un mese in cui è toccato al suo vice Caprile che comunque non ha demeritato con un solo gol subito e tre clean sheet in quattro gare allenamento mattutino almeri rosi per la salernitana e nelle scorse ore ecco lo stop per Luigi Sepe risentimento muscolare per l'estremo difensore partenopeo e a Cremona tra i pali ci sarà Vincenzo Fiorillo il classe 90 è stato impiegato da Giovanni Martuscello nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese a fine settembre e sarà titolare per la prima volta in campionato dopo aver chiuso la scorsa stagione con quattro presenze nelle ultime quattro giornate in A rientro in gruppo per Edin Rustic che ha svolto regolarmente la seduta con i compagni di squadra prosegue il recupero personalizzato per Jeffrey Adelaide verso Cremona Ernesto Torregrossa si candida per una maglia da titolare 16 minuti nella gara persa dal cavalluccio marino contro lo Spezia e per curare il mal di gol Martuscello potrebbe puntare sull'italo-venezuelano nella sfida contro i grigio-rossi di Eugenio Corini proprio con il tecnico bresciano Torregrossa fu autore della miglior stagione in Serie B in termini realizzativi nell'anno della promozione delle rondinelle in A in casa Juve Stabia testa alla sfida con il Cosenza per la gara del San Vito Gigi Marulla i residenti della provincia di Napoli potranno acquistare esclusivamente i tagliandi per il settore ospiti che ha una capienza di 806 posti Guido Paiuca potrà contare su Marco Varnier e Marco Ruggero verso il primo di tre match in sette giorni in Serie C seduta mattutina a porte aperte per il Benevento Auteri valuta tutte le opzioni in vista della Casertana Ivan Calabrese si è svolta questa mattina la seduta a porte aperte del Benevento in vista del derby di domenica con la Casertana i giallorossi lavorano sodo verso un incontro di grande importanza attraverso cui cercheranno di conquistare un nuovo successo che gli permetterebbe di consolidare il comando della classifica Auteri valuta tutte le possibili opzioni da adottare con la Casertana non è esclusa qualche piccola modifica nella formazione titolare considerato che il Benevento giovedì prossimo scenderà in campo a Crotone per poi affrontare la Turris il lunedì successivo al Vigorito un trittico di gare ravvicinate che avranno bisogno della massima concentrazione con Auteri che potrà tingere dall'intera rosa a piene mani a eccezione degli infortunati Nardi e Pinato intanto è stato designato l'arbitro del match con la Casertana si tratta del quarto anno Andrea Zanotti fischietto della sezione di Rimini Zanotti ha un precedente con la strega risalente alla scorsa stagione quando i giallorossi di Auteri si imposero per 2-0 contro il Brindisi grazie alle reti di Lanini e Starita Zanotti sarà coadiuato dagli assistenti Stefano Franco di Padova e Alessandro Antonio Boggianni di Monza il quarto ufficiale invece sarà Domenico Leone di Barletta Avelino con dubbi in attacco tra affaticamenti muscolari e gestione fisica l'Avelino accelera verso la sfida casalinga contro la CR Messina in programma domenica ed è focus in attacco per Biancolino se in mediana per quanto non ancora al top della condizione il tecnico ha ritrovato Toscano e Armellino con Rocca a caccia dello sprint per tornare in gruppo per rientri che potranno garantire nuove risorse per il reparto avanzato con la gestione costante del problema al tendine rotulio di Patierno ci sono gli stop di Gori e Vano e il virus gastrointestinale che ha bloccato Redan se per l'olandese si vola verso l'assenza dall'elenco dei convocati Gori e Vano saranno rivalutati costantemente nel corso degli allenamenti a porte chiuse con cui l'Avelino completerà la preparazione per la prima di tre gare in sette giorni un trittico verità nel rilancio Irpino c'è l'ipotesi di qualche rotazione anche negli altri settori con le ottiche scalpita per la fascia sinistra come Cionec occhio al rischio squalifica di Sunas con quattro gialli all'attivo in campionato e al recupero di D'Ausilio che però non desta particolare preoccupazione allo staff tecnico Biancoverde per la Cavese ecco Vincenzo Maiuri il ritorno per l'ex Sorrento sulla panchina dei Metelliani l'undicesimo turno si aprirà sabato proprio con il match della Cavese impegnata in casa contro il Potenza domenica Avellino Messina Taranto Turris Giuliano Crotone e Sorrento Foggia Ed è tutto per il TG ringrazio in regia Orlando Matarazzo restate con noi restate su 8 Channel Grazie mille a tutti a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.